A quali problematiche, a quali malattie è legata l'infezione da pleomococco e quali oggi sono i vaccini a disposizione, quali novità sono arrivate? Se ne parla anche durante la quarantesima edizione del congresso nazionale della SIMG, la Società Italiana di Medicina Generale delle Cure Primarie e noi approfondiamo il tema con il dottore Alessandro Rossi. Dottore, che tipo di agente infettivo è lo pleomococco? Che novità abbiamo per quanto riguarda la vaccinazione? Che? 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 Grazie a tutti.